ciao concludiamo guardando un po gli effetti allora gli effetti sappiamo che agiscono sull'intero oggetto grease pencil vediamoli un pochettino c'è l'effetto blur che è la sfocatura notare che non sta succedendo niente perché non sono nella modalità renderizzata mettetevi in modalità renderizzata per vedere gli effetti eccolo qua quindi blur è abbastanza facile da capire potete cambiare questo valore di sfocatura è interessante che potrebbe usare la depth of field della telecamera quindi in tal caso se io lo premo adesso usa le caratteristiche della telecamera quindi nella mia telecamera potrei andare attivare depth of field e dire sulla distanza alla quale focalizzare e ovviamente devo un po abbassare per notare l'effetto devo abbassare l'effetto ecco vedete che sfoca e la distanza la posso prendere o scrivendola qui oppure prendendo un oggetto ma posso anche premere e quando sono su questa casella e poi cliccare sulla scena a una certa distanza se c'è un oggetto viene pescato non viene pescato in questo caso e allora facciamo così posso più facilmente magari creare un oggetto in scena un empty l'ho creato in quella posizione lì e posso dire alla mia telecamera di utilizzarlo per mettere a fuoco quindi focus sull'oggetto empty ecco adesso magari regoliamo un pochino le f stop ecco adesso con questo empty se lo porto verso davanti mette a fuoco il disegno davanti più lo porto indietro più sfoca il mio disegno indietro quindi possiamo collegare quindi l'effetto blur anche al depth of field ma nella maggior parte dei casi forse volete mettere un valore a mano oltre a blur abbiamo colorize che parla un po' da solo diciamo permette di mettete il fattore a1 per vedere tutto l'effetto e potete scegliere diciamo di cambiare il colore all'immagine quindi duo tone per esempio potete scegliere due colori per le luci e per le ombre adesso non si nota tanto questo è il fattore che decide dov'è luce e dove ombra io ho un unico colore quindi non si nota grayscale rende tutto a scala di grigi seppia tutto in seppia trasparente appunto crea questo effetto di trasparenza il fattore è la quantità appunto di questo custom da a tutto quanto una tinta di un certo tipo quindi è come se andasse a modificare del tutto c'è poi flip che gira l'immagine sull'asse orizzontale o verticale è un effetto ovviamente può fare anche su tutti e due quindi è un po come mirror però è applicato come detto a tutto l'oggetto gris pencil glow fa una specie di effetto quello che nel render normalmente sarebbe il bloom diciamo si può scegliere il modo di farlo funzionare una soglia sotto la quale viene fatto il colore da utilizzare ce n'è il blending mode di solito uno lo vuole su add per creare questo effetto vedete di luce che è una specie di blur con in più questa possibilità di essere messo in addizione e quindi di dare bagliore diciamo io vi lascio sperimentare con tutti quanti non vale la pena che li guardi in tutte le loro opzioni molti sono abbastanza chiari pixelare e quindi anche questo crea l'effetto mosaico ricordatevi che ogni cosa può essere animata e quindi interessante anche questo per per dare degli effetti rim crea una luce laterale e potete scegliere magari anche ed come metodo e qual colore della luce quindi se fosse un arancione e qui è dove si trova quindi in questo caso potrei provare ecco vedete se faccio così do l'idea di una luce che arriva da sinistra su queste su queste colonne e automaticamente senza disegnarla e shadow è il suo fratello diciamo e crea un'ombra anche qui con l'offset posso decidere di andare a posizionarlo in modo diverso di eventualmente ruotarlo e posso anche sfocare come potevo anche per il rim posso sfocare quest'ombra diciamo in maniera che che si noti notate che in realtà la sfocatura è fatta ripetendo l'oggetto e quindi per i segni più sottili potreste notare un diciamo che si staccano più di una linea aumentando il numero di samples la qualità della sfocatura migliora questo shadow come vedete è un'ombra proprio piatta come quella che potrei fare in photoshop che nel caso di queste colonne non da l'effetto voluto magari potrei applicare guardate se io duplico rim e cambio colore magari metto un colore freddo invece di add scelgo moltiplica e lo faccio arrivare dall'altra parte ecco vedete in questo modo blu magari così è troppo troppo blu però un po più grigio vedete può fare rim sia da luce che da ombra perché ovviamente se scegliamo moltiplica scurirà e se scegliamo add schiarirà può funzionare in entrambi i modi swirl serve a creare una deformazione serve come vedete un oggetto potrei utilizzare questo stesso empty che avevo usato prima per la messa a fuoco quindi se scelgo questo empty vedete che c'è un raggio si è già creata una piccola deformazione se io aumento questo raggio e qua posso decidere quanto l'angolo quindi vedete è una deformazione di questo tipo che ovviamente se l'angolo diventa negativo gira dall'altra parte la cosa carina è che può essere appunto governata da questo oggetto e quindi immaginate di animarlo e create queste queste deformazioni insomma wave distortion è simile è sempre una distorsione però appunto invece che con un oggetto vedete posso creare delle onde o orizzontali o verticali l'ampiezza è la quantità di deformazione quindi poco oppure molto mentre invece il periodo è la lunghezza di queste di queste onde e la fase è muoverle in su o in giù quindi pensate anche questo che possono essere animati e quindi può dare questo effetto che può servire per l'acqua può servire che ne so per la transizione in un flashback perché appunto potete regolare l'ampiezza potendo essere animata può essere a zero in certe fasi dell'animazione ed essere aumentata a quel che serve e adesso che abbiamo un'ombra e una luce può si può capire un po di più eventualmente colorize perché adesso si può notare l'effetto appunto se scelgo custom e scelgo un colore adesso possiamo notare come riesco prima avevo solo il grigio adesso che ho dei colori diversi con il fattore a zero non cambia niente con il fattore a uno è diventato tutto rosso con il valore di default mischia un pochino quindi da una tonalità di colore alla mia scena e allo stesso modo appunto seppia funziona già da solo diciamo nel dare l'effetto seppia scala di grigio trasforma tutto in scala di grigi abbiamo visto un po tutto quello che c'è da vedere ce ne sarebbero di cose da dire però a un certo punto il corso deve anche finire gli argomenti li abbiamo toccati davvero un po tutti quelli importanti abbiamo fatto un personaggio animato abbiamo fatto la simulazione con le foglie la cosa migliore è applicare a dei progetti ben precisi alcune delle funzioni perché ce n'è molte altre che magari non abbiamo guardato perché sono davvero delle cose che servono solo in certe situazioni alcuni dettagli che veramente si usano solo in alcuni casi però c'è la documentazione di blender e soprattutto io vi invito ad andare a vedere comunque il vecchio corso di gris pencil perché per esempio gli effetti che abbiamo visto in questa lezione li affrontavo in maniera molto più dettagliata in quelle lezioni ma siccome non sono cambiati sono sempre quelli vi invito per esempio ad andare a guardare quelle lezioni sugli effetti quelle della versione 2.8 perché magari ho descritto più in dettaglio alcuni valori molte delle lezioni rimangono ancora valide in ogni caso grazie di avermi seguito fin qui e ci vediamo una prossima volta ciao